Amici di Football Is My Life, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qua per fare il diario della quarta giornata dei gironi della Champions League vedendo soprattutto come sono andate le cose in casa delle squadre italiane. Una due giorni di Champions, double fass, male, malissimo martedì, bene, benissimo ieri, mercoledì. Andiamo però con ordine e iniziamo dalle gare di martedì. Quindi incominciamo dalla Juventus che perde 2-0 in casa del Maccabi Raifa. Dire che è un'occasione sprecata perché vincendo avresti guadagnato punti su Paris Saint Germain e Benfica che hanno pareggiato è il minore dei mali perché questa sconfitta per la Juve è uno dei punti più bassi della sua storia al pari degli anni di Ferrari del Neri e della Juve di Maifredi di 30 anni fa. Un primo tempo disonorevole, vergognoso, spregevole. Una Juventus che ha fatto scena muta, incapace di fare due passaggi di fila. Perdeva tutti i palloni, costantemente anticipata dagli avversari e primo ti rimporta al 44esimo. Nel secondo tempo poi attacca alla rinfusa senza però mai dare l'idea di poter riaprire la partita e anzi quando prendeva i contropiedi dagli avversari non è che la vedevo proprio sicurissimissima. Comunque tutti insufficienti, chi 4 chi 5, Allegri 3, Agnelli 0, inclassificabile anche per le dichiarazioni post partita dove ha detto io mi vergogno di questa sconfitta, siamo in una situazione difficile però si perde tutti assieme, si vince tutti assieme quindi Allegri deve restare. Quando se questa figura l'avesse fatta a Sarri l'avrebbe mandato via senza problemi dato che quando l'ha esonerato della Juve per molto meno l'ha mandato via con un calcio nel culo come se fosse un pezzo di merda io veramente non so più cosa pensare, non so più cosa deve succedere per mandare via Allegri dalla Juventus. A questo punto io consiglio ad Andrea Agnelli di fare coming out e di dichiarare il suo fidanzamento con Allegri perché non ci sono altre spiegazioni per il fatto che Allegri continua a rimanere sulla panchina della Juve. Piccola parentesi adesso darò anche un soprannome ad Allegri lo chiamo Dolce e Gabbana fidanzato con Andrea Agnelli con l'amante De Sciglio questa è la situazione della Juve. Comunque in estate qualche mese fa avevo fatto il mio mercato ideale della Juve un mercato semi parodistico che però voleva denunciare serviva a denunciare questa società una società che non ha un progetto e prende solamente per il culo i propri tifosi. Il Milan poi perde 2-0 in casa contro il Chelsea partita indirizzata dopo 20 minuti dall'espulsione di Tomori con il conseguente rigore per i Blues a quel punto la gara era finita. Il Chelsea gioca sul velluto è più forte e ha vinto con il minimo sforzo infatti soprattutto nel secondo tempo non ha infierito sulle avversarie. Per quel che riguarda il Milan non si può certo dire che manchi di coraggio e di personalità perché comunque una qualvolta che ha subito il gol del 1-0 rimasto in 10 non si è scomposto si è spinto in avanti per cercare di pareggiare però se Giroud sbaglia quel gol davanti alla porta capisci che la partita non era recuperabile che poi anche se avesse segnato il Milan secondo me avrebbe comunque perso. Comunque passaggio del turno per i rossoneri che a questo punto si complica la situazione non è comunque irrimediabile perché nell'altra partita la Dinamo Zagabria e il Salisburgo hanno pareggiato Milan fermo a 4 punti dal Salisburgo meno 3 dallo stesso Chelsea per staccare il ticket per gli ottavi di finale dovrà fare 6 punti nelle ultime due partite difficile ma non impossibile chi vola invece agli ottavi è il Napoli quarta vittoria su quattro nei gironi 4-2 contro l'Ajax una buona partita da parte del Napoli non perfetta però per Tenopei che stanno vivendo uno stato mentale veramente pauroso Napoli squadra oliata gioca a memoria tutti si aiutano una squadra che è partita forte subito due gol con due azioni di squadra in velocità buon pressing buone triangolazioni squadra che poi quando deve recuperare la palla lo fa portando due uomini sull'avversario non mi è piaciuta tantissimo la difesa perché qualcosa ha concesso Kim sul centro-destra non l'ho visto benissimo almeno uno dei due gol si poteva anche non prendere parlando poi delle prestazioni dei singoli migliori in campo Varaskelia, Lobotzka e Lozano Giorgiano gol assist e corsa Lobotzka è il GPS della squadra lo trovi ovunque recupera palloni costruisce il gioco Lozano subito gran gol davvero numero 9 per l'inserimento e poi si sacrifica per i propri compagni di squadra e infine l'Inter Inter che pareggia 3-3 sul campo del Barcellona una partita folle tecnicamente non bellissima Inter con questo pareggio ha un passo dagli ottavi di finale sicuramente un ottimo risultato però dobbiamo anche guardare in casa degli avversari perché è il quarto quinto anno di fila che il Barcellona fa certe figure in Champions League tra l'uscire ai gironi prendere otto gol dal Bayern Monaco perdere 3-0 in casa contro una Juve senza né capo né coda va bene tutto va bene essere contenti però se si aprono un pochino gli occhi si capisce che dall'altra parte ci sono dei problemi parlando un po' della partita Barcellona che ha aumentato i giri del motore alla fine del primo tempo quando è passato in vantaggio questo Barca è una squadra che si basa più sulle individualità che non sul gioco di squadra vedo poi un centrocampo di giocatori che portano più palla che non palleggiatori difesa horror responsabile su tutti e tra i gol la cosa più grave però è che la squadra dopo che era riuscita a raddrezzare la partita è andata nuovamente sotto e poi nel finale ha ancora rischiato di perderla come sapete per come vedo io il calcio questa è una cosa che non concepisco non esiste proprio che una squadra raddrezza almeno nel risultato una gara storta per poi rischiare di perderla se non perderla proprio questo vuol dire proprio avere mancanza di personalità se il Sassuolo fa delle cose del genere mi incazzo come una bestia dall'altra parte invece un'ottima Inter per carattere e determinazione paradossalmente ha giocato meglio la partita di ieri che non quella dell'andata è andata sotto però non ha demorso nel secondo tempo è entrato in campo con un piglio aggressivo ha ribaltato la partita poi è stata ripresa però anche dopo aver subito il gol del pareggio ha sempre cercato di vincere la partita di questa gara dell'Inter comunque non mi sono piaciuti i cambi di Simone Zaghi che hanno abbassato la squadra ultimi 15-20 minuti Inter in campo col 5-4-1 e poi i tre gol presi sono arrivati quando i nerazzurri si sono rintanati nella loro area di rigore guardando poi le prestazioni dei singoli Onana non mi dà sicurezza lo dico continuo a dirlo però all'Ajax di Tenag lui mi sembrava l'anello debole della squadra bene la difesa Screiniar Bastoni Bastoni giocatore che a me non piace però ieri ha giocato una buonissima partita ha poi fornito anche l'assist per il gol di Barella Barella migliore in campo secondo me al di là del gol una partita veramente di corsa e sostanza nel primo tempo veramente si è fatto un culo quadro torna al gol poi anche Lautaro gol e assist per lui vedremo se adesso riuscirà a rifarsi ed entrerà in quel periodo in cui tutti i palloni che tocca li butta dentro Geko non segna però ha comunque fatto un ottimo lavoro per la squadra non è arrivata la vittoria però comunque un'ottima prestazione un ottimo risultato Inter vicina agli ottavi di finale per staccare il ticket basterà una vittoria nelle prossime due partite Vittoria Pilsen e Bayern Monaco prossima partita col Vittoria Pilsen in casa gara apparentemente scontata però si sa com'è l'Inter di Simon Inzaghi quando deve rincorrere va mille quando invece parte da una situazione di vantaggio si fa la cacca addosso e manda tutto a puttane con questo non sto dicendo che l'Inter non vincerà la partita la vedo favorita però non mi sorprenderei qualora uscissero degli altri risultati per i motivi che vi ho detto quindi non facciamo troppo i conti senza nostre guardando poi la situazione negli altri gironi abbiamo le premie squadre qualificate agli ottavi girone A Napoli ha già passato il turno il Liverpool invece ci è vicino nel girone B si qualifica agli ottavi il Bruges grazie al pareggio sul campo dell'Atletico Madrid nel girone C dell'Inter passa il turno il Bayern Monaco girone D la situazione equilibrata al momento primo il Tottenham con 7 Marsiglia e Sporting Lisbon a 6 Eintracht di Francoforte 4 situazione equilibrata qua secondo me si deciderà tutto all'ultimo e non mi sorprenderei neanche di eventuali rimaltamenti di fronte girone E del Milan l'abbiamo detto prima girone F qualificazione rimandata per il Real Madrid che pareggia sul campo dello Shakhtar Donex però comunque salvo catastrofi e cataclismi i Blancos di Ancelotti passeranno il turno nel girone G si qualifica agli ottavi il Manchester City nonostante il pareggio 0-0 a Copenhagen il Borussia Dortmund invece più 5 sul Marsiglia terzo non ha ancora passato il turno però insomma ci è vicino poi girone H della Juve l'ho detto prima com'è la situazione va bene ragazzi questo è stato un po' il diario dell'ultima giornata di Champions League fatemi sapere cosa ne pensate e come al solito mi invito a scrivere il canale YouTube a seguirmi su Facebook a seguirmi su Instagram lasciare un commento lasciare un mi piace a spammare questo video in ogni singolo punto del pleno di sfero detto questo vi saluto ci vediamo alla prossima ciao ragazzi grazie a tutti